Grazie a me, richieste di io. Qui dice che Sirius Black è fuggito da Azkaban, la prigione dei maghi. Nessuno ci era mai riuscito prima. 12 anni fa, Black ha ucciso ben 13 persone con un solo incantesimo. Bene, almeno noi saremo al sicuro, Hogwarts. Che c'è che non va? Ron, hai notato scusa che ha sentito il tuo padre che ballava Sirius Rick? Il mistero della magia crede che mi stanno andando alla caccia. Sirius Black è fuggito per venire a cercare te. Oh, Harry, dovrai stare molto, molto attento. Non andare in cerca di guare. Ah, beh, non sto andando a cercare di guare. Sì, ho solo i linguaggi che mi trovano a me. Ma lo prenderanno, vero? Voglio dire, quella che ha avuto il giro, abbiamo fatto uscire via, che ha fatto liberarlo. Di nuovo, di nuovo. Deci a tenere quel mostro sotto controllo? Calma, ti rovi. Meglio non svegliare il professor lui. Non ti preoccupare, Rod, te lo vedremo a dire, te lo vedremo a cosa, questa volta. Beh, questa volta, di nuovo, ancora. Un'altra volta. Eccolo là di nuovo. A vero, come hai fatto un'altra volta. Quando hai fatto aprire la porta un'altra volta, quando te lo dico... Eccolo là di nuovo, mi ricordo che dobbiamo rincomerci da solo... E' sopra questo bagaglio, Fred. E' sufficiente che ci avviciniamo e cominciamo a rincomerci. E saltiamo qua in alto per arrivare a sopra di bagaglio. Molto bene, fai strada lì. Dirigiti verso i bagagli e premi il pulsante destro del mouse per saltare. Come hai fatto un'altra volta. Certo. Raccogliamo queste gelatine a tutti i gusti più uno. Fred e Giorgio ci daranno cose fantastiche in cambio. Immagino che dovremmo togliere di mezzo questa cosa. Oppure uno di noi potrebbe lanciare De Bulls. De Bulls! L'hai fatto a me. L'hai fatto a me. Ricordi quando avevo fatto una scorsa? Certo, quando il mio topo cosa ha fatto la colpe per il tuo gatto. E tu, Abba Henry, cosa c'è dirà? Forse dovremmo seguire come ho fatto un'altra volta. E con tu, se passeremo sopra questo libro di salvataggio, la nostra avventura sarà memorizzata fino a questo punto. Oh, splendido. I gusti che vedete è quello di dentro il muro. Come hai fatto un'altra volta che c'è Go-Go in guarda. Comincerò io e poi vi unirete voi due. E quello è lui, vero? Certo che è lui, non ti ricordi nulla. La sentenza, è dominare la sentenza come ho detto io. Attenzione! Mi ricordate tutti come si lancia De Bulls? E' stato davvero che ho fatto un'altra volta che non l'ho capito. Stupendo! Stupendo! Una cioccorana! Si aiuterà a recuperare? Non mi sento sicuro in questa carrozzana. Che cosa c'è in quelle gabbie? Non dovremmo trovarci qui in questa carrozzana, sicuro. Non ce lo possiamo attorno alle cose. Go-Goalazzo, ci vedete. Seguite. Un altro... Oh no, è il drago ma fuori di nuovo. Guarda chi c'è. Potete di quell'enticchia. Non dobbiamo immaginare che questa fatta di una brutta coppia di un topo aveva a che vedere con te. Drago ma fuori. E così si fanno facciata di quella del piano, eh? Probabilmente perché soltanto qui può trovare qualcosa di... Abbiamo contrato che è meglio. C'è un uomo un'altra volta, c'è l'ultima volta che c'è ancora. Viene avvento allora. Oh. Ha un'altra volta lui. Certo che... Sinceramente, credo che l'abbia visto. Allora, facciamo quattro dei pagine. Non li attaccheremo. Due, aiutaci. RICTO SEMPRA! 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 Ah, ci siamo riusciti. RICTO SEMPRA! RICTO SEMPRA! Adesso posso urlare? RON, devi decisamente esercitarti nella precisione dei tuoi incantesimi. RICTO SEMPRA! Una figurina dei maghi! Adoro collezionarle! Mi ricordo che abbiamo apprezzato tutto l'altro!